Ciò che ha fatto Mirella è unico, come dico a Franco, ti ha sentito parlare, non ha detto una parola, grazie Alessandro, hai ripreso il discorso che avevi interrotto, ti ringrazio, sei sempre di parola, hai sentito? La facca a funare la prima di febbraio, lasciatvi penetrare e sono assenti per la prevenza del bloc finito, ancora avevo capito bene io, la prevenza del bloc finito.